Facciamo un po' un bilancio, mi interessa un suo bilancio di questi mesi di pandemia, ora la vita è tornata un po' alla normalità, come è gestito l'Italia in questo momento drammatico rispetto agli altri paesi? Secondo me basta guardare le classifiche, purtroppo pessime, dei contagi e dei morti, e si vede subito che praticamente siamo al quarto posto e ai primi tre posti ci sono paesi come gli Stati Uniti, il Brasile e l'Inghilterra, quei tre paesi hanno dei leader penosi che sono Donald Trump, Bolsonaro e Johnson e noi siamo subito dopo, non so se possono trarre delle conseguenze da questo fatto, soprattutto secondo me l'errore più grande è affrontare queste emergenze che sono addirittura planetarie, quindi non soltanto nazionali, con governi di parte che siano di destra o di sinistra, soprattutto in una situazione come nel governo attuale in cui questo governo era arrivato al potere diciamo così un po' con uno dei colpi di palazzo ai quali ormai la Repubblica Italiana ci ha abituati. Io avrei preferito vedere anzitutto un governo tecnico perché le questioni erano soprattutto in mano al comitato scientifico e quindi era meglio che se le gestisse da solo e poi ovviamente un governo di unità nazionale. Grazie a tutti!